Uè! Non fare il pescelesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e ribenvenuti ad un velocissimo video! Io sono sempre XIUDER e la domanda che molti mi hanno fatto è Ma XIUDER c'è il deltaplano del Millennium Falcon? Come cavolo faccio ad ottenerlo? Ragazzi è veramente una cosa semplicissima! Entrate nella lobby dove c'è tutto il... come si chiama? La casa lì dello schiaccianoci premendo in alto a sinistra sulla stella di Natale E una volta entrati nel rifugio qua a destra come potete vedere c'è un pacco gigante Che è praticamente il Millennium Falcon no? Se avete già aperto un regalo probabilmente come potete vedere non lo potete aprire Ma una volta che andate lì e ci cliccate sopra E se volete lo... lo scuotiamo un pochettino shiki 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 shaghi Otterrete il deltaplano quindi davvero semplicissimo Una cosa da niente Io vi ringrazio per avere guardato questo video Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi siamo in live sempre su Twitch Ciao! 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 Ciao!